Dalla comunicazione politica alla passione per la scrittura horror. Simone Carletti, 42 anni, ormai da tempo arruolato nei ranghi dell'ufficio stampa del sindaco Montino, riesce a mantenersi in equilibrio tra due modalità di linguaggio e di comunicazione molto diversi tra loro. Da un lato una più rigorosa, istituzionale e rassicurante, dall'altro una più da brivido. La passione per la scrittura e per la scrittura horror mi nasce dalla lettura degli horror, da quando ero bambino e in particolare da un libro che mi regalò mia madre quando avevo più o meno 13-14 anni, che è IT di Stephen King. Laureato in lettere moderne, storie e critica del cinema, con un master di giornalismo all'attivo, diventa giornalista professionista nel 2007. Se il lavoro prende da subito una strada di grandi soddisfazioni, la passione, quella per la scrittura, non è da meno. Finalista al premio Giallo Mensa, tra i segnalati al premio Algernon Blackwood, è anche finalista al premio Polidori, al premio Hannibal Lecter e vincitore del premio Crawford 2013. L'ultimo libro si chiama? I bambini lo sanno. I bambini lo sanno, che già dal titolo fa paura, possiamo dirlo? Questo mi fa piacere perché era l'obiettivo del libro. Che storia si racconta in questo libro? Ho scritto una storia in cui sono protagoniste due sorelle, molto giovani, che si ritrovano all'improvviso in un mondo capovolto, un mondo dove i morti viventi iniziano a camminare sulla terra. Come si passa dalla scrittura per la comunicazione politica, istituzionale, alla scrittura di qualcosa che ci piace? Giornalismo e narrativa sono due cose molto diverse. Scrivere per comunicare qualcosa alle persone implica che tu sia breve, conciso, che tu spieghi in pochi concetti subito quello che vuoi raccontare. La narrativa ti permette invece di giocare con le parole, di addentrarti nella costruzione delle frasi, della storia, della trama. Insomma, ti dà più libertà da questo punto di vista e anche più divertente. Fa più paura la politica, la comunicazione politica o l'horror che ci vai a raccontare? Sicuramente la politica fa paura per certi versi perché ci sono dei meccanismi non sempre facili da comprendere e che potrebbero spiazzare persone che non hanno il pelo sullo stomaco.